Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va? Spero che state bene e che sia trascorrendo una splendida giornata. Innanzitutto mi scuso per l'assenza di ieri, però è un periodo che sto editando un video un po' particolare a tema tech e visto anche appunto il grande lavoro di editing del video, insomma il tempo è stato quel che è stato per registrare. Però se siete curiosi di vedere questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina perché è l'unico modo che avete per rimanere aggiornati, appunto vi preannuncio che sarà un video un po' particolare. Però in questo video voglio parlare di un argomento interessante che è uscito ieri, vale a dire Jordan Beretout, il centrocampista classe 93 della Roma. Perché sappiamo tutti insomma che sta vivendo una stagione un po' particolare il centrocampista francese perché è partito veramente benissimo però è un po' di partite che, insomma, il suo rendimento è un po' calato. In più anche l'arrivo di Sergio Oliveira gli ha tolto un ulteriore posto in squadra. I rapporti con Mourinho non sono proprio ottimali, tant'è che già a gennaio si era paventato un addio del centrocampista francese. Ieri però sui medi è uscita una notizia, vale a dire, che potrebbe essere interessato al calciatore il Torino in vista prossima stagione. Come sappiamo il Torino perderà Pobega diciamo al 99,9% in quanto farà ritorno al Milan dopo fine presto contando che la forma di trasferimento era semplicemente un prestito secco, senza alcun diritto o obbligo di riscatto. Il Milan chiede veramente tanto per il giocatore e secondo me ci punterà soprattutto perché poi Chessy sicuramente a mio avviso non rinnoverà se andrà via a zero e quindi si troverebbe già un sostituto discretamente simile in squadra. Quindi il profilo di Jordan Veritou è stato accostato al Torino. Operazione che è un po' ardua secondo me in primis per un discorso di ingaggio perché comunque il giocatore prende 3 milioni di euronetti dalla Roma quindi insomma il Torino secondo me anzi qua sicuramente non è in grado di ottemperare a tale stipendio. Inoltre vi sarebbe il prezzo del cartellino perché comunque il giocatore andrà in scadenza nel giugno 2024 quindi non è in scadenza e eventualmente il Torino dovrebbe sborsare dei soldi alla Roma quando ha già molti riscatti in ballo. Ad esempio Mandragora si vedrà poi se verrà comunque allungato il prezzo di Pride perché si parlava anche di questa opzione quindi un allungamento del prezzo di un anno visto anche l'ultimo infortunio e secondo me il prezzo di riscatto sarebbe abbassato rispetto ai 15 milioni che il Leicester andava a chiedere appunto al Torino per il centrocampista belga. Ma ci sono anche altre questioni c'è la questione piazza c'è il discorso di riscatto di Brecalo e da vedere poi come si svilupperà il mercato in uscita nel senso Izzo rimarrà o no Qualora dovesse rimanere Izzo se andrà magari via GG non si sa bisogna vedere anche cosa incasseranno eventualmente da Bremer perché ripeto se Qualora Bremer dovesse andare via e la votazione di Cairo si dovrebbe agire sui 40 milioni è vero che tu vai a risparmiare sullo stipendio e ti prendi una bella cifretta però è anche vero che tu quei soldi devi investirli per i riscatti quindi qualora si paventasse l'acquisto a titolo definitivo di Jordan Veretout presumo che alcuni prestiti non verranno riconfermati ad esempio piazza però c'è una seconda opzione o un prestito con obbligo quindi un prestito con una cifra fissata come obbligo di riscatto al di là che possa essere condizionato o meno ma che andrebbe a ricadere su un esercizio di bilancio successivo alla stagione 22-23 quindi per una stagione il Torino sarebbe diciamo non vedrebbe il suo budget le sue finanze intaccate da tale acquisto oppure eventualmente un prestito oneroso biennale o meglio un annuale e poi magari vedere in il regime insomma dell'ultimo anno di svincolo potrebbe essere una soluzione interessante quella del prestito col diritto o del prestito con obbligo però la Roma secondo me sarebbe comunque chiamata a pagare parte dell'ingaggio perché comunque il Torino a quanto sembra e penso che questo che sto per dirvi sia veritiero non sarà disposto mai a pagare 3 milioni di euro netti è vero è vero che vai a perdere un bel ottimo a zero probabilmente però andresti a prenderti un giocatore che potresti magari anche dare quella cifra ma a centrocampo e tu rimarresti in attacco completamente sfornito contando pochi ci potrebbe essere anche il riscatto di Pellegri quindi insomma a livello finanziario secondo me è veramente difficile catalogarla in un'ottica di acquisto a titolo definitivo staremo a vedere un discorso di prestito poi a livello tecnico ragazzi è un palleggiatore uno che sa verticalizzare uno che tecnicamente potrebbe essere più affine a un Sanabria che è un Belotti perché Sanabria è uno che sveria molto che sfrutta la profondità eventualmente staremo a vedere anche che tipo di attaccante potrebbe venire al Torino però potrebbe essere un acquisto interessante perché innanzitutto è abituato a giocare in un centrocampo a due ora che giochi in un 2 centrali in un 4-2-3-1 come nei due centrali in un 3-4-2-1 magari il gioco va un pochino a diciamo a cambiare però potrebbe essere anche supportato dal discorso di tre centrali perché con la Roma ne ha due tecnicamente in un 4-2-3-1 ma anche comunque nella Roma ha giocato in un centrocampo con due centrali in un 3-4-3 quindi o in un 3-5-2 quindi potrebbe essere un'ottima opzione per il Torino perché in primis un centrocampista esperto ma non vecchissimo quindi le due o tre stagioni te li può fare ancora bene seconda cosa al piede tecnicamente non si discute magari un po' di scontino però voglio dire sempre meglio che avere un Linetti che fondamentalmente gioca al 50% sia che giochi da centrocampista centrale che da tre quartista quindi voglio dire magari meglio di di un conè per dire contando che poi ripeto andreste a perdere Puvega quindi potrebbe essere un acquisto veramente tanto interessante secondo me è una pista da seguire mi raccomando tifosi del Torino e non fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate se il video vi è stato utile mi raccomando come sempre lasciate un like al video iscrivetevi al canale attivate le campanelle notifiche prima e sempre aggiornati e soprattutto attivate la campanellina perché a giorni uscirà il super video o meglio il video un po' particolare per questo canale ma di un tema che insomma ho già trattato tempo addietro non mi resta che dare un abbraccione e ciao al prossimo video o meglio vi rimando al prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti